Il dramma dei 72 lavoratori dell'indotto Eni licenziati, il dramma di una città in ginocchio, un albero di Natale addobbato con le lettere di licenziamento come emblema della puntata di ieri sera andata in onda su Canale 10 di Agora. Un albero di Natale amarissimo e che purtroppo si candida a diventare l'emblema del Natale più nero nella storia recente di questa martoriata città. Il tutto mentre la politica, quella nazionale e quella regionale in particolare, rimane sorda alle grida di dolore che provengono da questo lembo di Sicilia. L'abbandono di Eni, deciso da Renzi e dai suoi compagni di cordata del PD, sta lasciando sul terreno gelese solo disastri. Quelli ambientali con un territorio baciato dal buon Dio ma distrutto da anni e anni di inquinamento indiscriminato. Quelli sulla malmessa salute dei cittadini gelesi in una città dove si registrano numeri paurosi di malformazioni neonatali e patologie tumorali. Ed ora anche quelli economici e sociali, con una crisi senza precedenti. Ed Eni che, con l'avallo di una politica becera e lontana anni luce dai bisogni di questo popolo vessato, tenta di svignarsela alla chetichella. Agorà ha acceso ancora una volta i suoi riflettori su questa drammatica realtà tutta a tinte gelesi, con tre lavoratori, oramai divenuti ex, della ditta Elettroclima, presenti in studio e che hanno chiesto solo e soltanto una cosa, ossia a che santo votarsi per un aiuto concreto che risolva la loro gravissima situazione personale e familiare. Con un vice sindaco che si è commosso ed ha commosso per la sensibilità con la quale sta affrontando il tema. Sono voluto andare dagli operai a tutti e due gli ingressi, oltre per portare la solidarietà, perché è dovuta da chi è nelle istituzioni, anche per cercare di supportarli psicologicamente e moralmente. A me rimane in pressa in mente l'immagine di uno degli operai che era lì con suo figlio, un figlio che ha la stessa età di mio figlio. E lui mi dice, io mi passo il Natale qui con mio figlio fino a quando non mi risolvete il problema. Bene, io in tutto il tragitto non sapevo se rimanere a Gela o continuare il percorso che avevamo deciso di fare con Domenico per andare a affrontare altri problemi che sono sempre inerenti ai lavoratori, sempre inerenti ai problemi del territorio, alle bonifiche e quant'altro. Io con l'immagine non riesco a tornare la mano dalla testa. E ti fa onore che vi si rubino gli occhi in questo momento, ti fa onore questo, perché penso che come me pensi ai nostri figli. No, ti posso dire che se questi ragazzi passano il Natale lì, noi sapevamo che già l'avremmo passato al lavoro, perché sapevamo quali erano gli ostacoli burocratici che ci avrebbero portato a questo punto. Vedi, questi operai sono stati silenti, sì sono venuti a protestare in consiglio comunale, vengono puntualmente da noi, ma vengono per dialogare perché vogliono conforto. Però adesso la voce del gelese non può rimanere così bassa e vi posso assicurare, e quindi lo dico da amministratore, ne parlavamo oggi con Domenico, che se a noi non arrivano le soluzioni da chi ha il potere decisionale, quella voce non sarà più così silente, si sentirà talmente forte che a Roma se lo ricorderanno per un bel po' di tempo. Ma che ha anche fatto intendere che, come dicono a Catania, a Sant'Agata se la sono già portata e chi ha permesso lo scempio non può ergersi ora persino a Censore. Censore è un cavolo, che si vadano piuttosto a nascondere certi personaggi che hanno firmato consapevolmente questa agonia della loro stessa città. A completare il parterre degli ospiti di Agora il capogruppo consigliare del PD Enzo Cirignotta e l'ingegner Fabrizio Lisciandra, consulente della Presidenza della Regione Siciliana, nella stesura del protocollo Eni del 6 novembre, che ha sancito la fine della raffinazione a Gela. Non è mancata, poi, la sempre pungente scheda di Giulio Cordaro dal titolo fuori dal coro. Chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agora potrà farlo domani sera con la replica integrale che andrà in onda alle ore 21 su Canale 10, oppure sui nostri indirizzi social, ossia il sito internet tg10.it ed il profilo Facebook di Canale 10. Agora tornerà in diretta venerdì prossimo in prima serata per l'ultima puntata del 2015 con nuovi ospiti ed argomenti che riguardano Gela ed i Gelesi.